Ma che dire, è una partita un po' particolare, ha avuto due lati, i primi lati giocando una buona palla a volo, mettendo in pratica quello che abbiamo provato all'allenamento, quello che abbiamo preparato e infatti la partita è andata via liscia, un po' di calare sulla fine del secondo set, però siamo riusciti a portarlo a casa, terzo set abbiamo cominciato a fare fatica, abbiamo cominciato a sbagliare, soprattutto attacco, battuta, però al quarto siamo rientrati bene, soprattutto all'inizio ci siamo portati avanti di 6 o 7 punti e poi ci si è spenta la luce, ci ha recuperato, hanno vinto il quarto e poi abbiamo buttato via al quinto. Purtroppo cosa fare? Torneremo in palestra a continuare a lavorare come stiamo facendo e sono sicuro che vedremo ancora cose belle.